Si stringe il cerchio intorno agli autori della rapina alla Porta Valori, avvenuta il 28 novembre 2014 nel centro abitato di Pagani, in provincia di Salerno, nella quale rimasero ferite tre persone. I carabinieri del reparto territoriale di Nocere Inferiore hanno arrestato un pregiudicato di 51 anni di Pagani, Enrico Laierno, per la tentata rapina propria al furgone Porta Valori, avvenuta alla fine di novembre scorso. Le indagini sono state condotte dall'arma di Nocere Inferiore in collaborazione con il nucleo investigativo di Salerno. L'uomo era latitante, pare che si stiano cercando almeno altri due uomini. I particolari sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede del comando provinciale dei carabinieri di Salerno.